venite a venire un secondo visto che dite che c'è il tappo e guardate cos'era il tappo il lure lock prego avvicina guarda guarda che c'è la terza dose questo neร Chiefs e altri problemi ovcini The current vaccines are not infection blocking, they're not broad, so when new variants come up you lose protection, and they have very short duration.